La Fossano è diretta a Torino Stura, delle ore 10.53 e in arrivo al binario 3. Grazie a tutti. 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 Allora, a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 Cosa costo questo libro, a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti. a tutti. chi? a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. . a tutti. 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 . a tutti. a tutti. a tutti. . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . . a tutti. 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 a tutti.